Quando io dico Schaefer, tu dici hi. Schaefer! Hi! Schaefer! Hi! Quando io dico Sierra, tu dici Camp! Sierra! Camp! Sierra! Camp! Schaefer! Hi! Sierra! Camp! Questo è il quinto anno che venga a questo campo estivo. Le mie attività preferite al campo estivo sono forse scalare perché è divertentissimo nella natura e è bello, o andare ai laghi perché i laghi non sono freddi, si può saltare dalle rocce molto alte. Al campo estivo mi piace anche molto il fuoco quando ci raggiungiamo tutti insieme per cantare, per divertirci o andare a dormire fuori nella natura perché fa guardare le stelle e essere tranquilla. Il primo anno che sono venuta parlavo pochissimo inglese, però dopo, durante le quattro settimane, ho abituato a parlare con le persone americane e quindi ero un po' costretta a parlare americano, quindi sono abituata e dopo quel campo estivo ho imparato molto più l'inglese e ora parlo bene inglese. Io penso che è una bellissima opportunità per tutti di venire qua perché anche se uno viene dai paesi lontani ne vale la pena tutti i viaggi lunghi perché una volta che sei qua ci diverte un mondo e è bellissimo. Grazie. 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 Grazie.